Pronti per iniziare? Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Casa Minutella. Ieri il nostro debutto stagionale per questa stagione che ci vedrà protagonisti a Dio piacendo fino al mese di giugno. In diretta su due emittenti in contemporanea sul canale 19 di Teleone in tutta la Sicilia e poi in contemporanea anche sul canale 91 di CheTV, una coproduzione che torna a dare una mano a questa piccola produzione che si chiama Casa Minutella che da qui a breve festeggia i suoi primi 10 anni di attività. Grazie, ieri eravate in tantissime a seguirci, prima puntata ieri con Ficarra e Piccone che se avete voglia potrete rivedere questo weekend in replica sempre alle 14.45 sul canale 19. Però siccome di certo vi avrò confuso le idee con orari ed emittenti abbiamo la pagina ufficiale di Casa Minutella e lì trovate tutto, palinzesto, orari, emittenti che ci mandano in onda. Oggi è una puntata per fare festa, oggi si deve fare festa assolutamente perché voi lo sapete noi celebriamo sempre il teatro in generale, che sia teatro popolare, contemporaneo, che sia prosa, commedia e così via perché dopo tantissimi anni torna sul palco del Teatro Biondo, il nostro stabile di Palermo il maestro Lollo Franco che ha archiviato il successo del festino di Santa Rosalia quest'anno torna appunto sul palco del Teatro Biondo dopo un po' di anni. Insieme a lui torna una palermitana doc che se la memoria non mi inganna debutta a teatro ha già fatto teatro ma ce lo faremo dire tra un po', Lorena Cacciatore sono felicissimo di rivederla e poi conosceremo un figlio d'arte che è Nicola Franco che anche lui è in scena con Kin al Teatro Biondo. Allora, come diciamo sempre, unganciate i canali, se no facete il danno, vi aspetto, è una puntata da non perdere anche perché poi è una chicca da farvi vedere di Lollo Franco di qualche anno fa. Ci vediamo subito dopo la pubblicità e la sigla, fermi lì, vi aspetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi di certo sarete altrettanto tanti perché dobbiamo fare festa. Mettiamo il titolo alla puntata di oggi. Buongiorno a Rino Palazzotti e Giussi Caminita. Lollo Franco, due punti, il mio ritorno al Biondo, il Teatro Biondo perché lui di fatto è brizzolato. Buongiorno a Lollo Franco che vi inquadriamo immediatamente. Maestro, buongiorno. Buongiorno. Bentornato in casa Minutella. Vabbè, intanto sono contento veramente di tornare con te perché mi ricordi tantissime cose, mi riempie di gioia. Però oggi è una giornata veramente particolare e sono contento di farlo in questa trasmissione con te perché voglio finalmente forse parlare del teatro come non ho mai parlato. e voglio dare testimonianza a questa città e soprattutto ai giovani di questa città che hanno testimoniato questo mio ritorno in scena al Teatro Biondo con Kin, Passione e Seduzione di Michele Perriera. E voglio subito chiarire una cosa. Io quando ho accettato di mettere in scena il testo di Michele Perriera, ho voluto mettere il testo di Michele Perriera in scena, non il suo teatro, perché non mi appartiene, non è mio. Anche quando ho fatto il primo Kin con la regia di Michele, fu una sorta di compromesso rispetto al suo teatro. Nel senso che lo scrissero i giornali, Renato Tomasino scrisse, si incontrano due fratelli, il maggiore e il minore. Il maggiore ovviamente era Michele, il minore ero io. E insieme fanno questo Kin. Nel senso che lo spettacolo era sognante, ma c'era tutto il teatro e tutto il suo mondo di Perriera nella prima parte. La seconda parte, che è quella attoriale, quella quando l'attore è in camerino, quella quando l'attore va in scena, quello quando l'attore è se stesso, Michele l'affidò in maniera totale a me, perché disse nessuno meglio di te può rappresentare un attore. Questo quanti anni fa, maestro? Nell'87. 87? Nell'87, 28 anni, sono passati esattamente... La signora Cacciatore era appena nata, mettiamola così. Non c'era nemmeno, non c'era nemmeno. E quindi io ho voluto assolutamente con questo Kin parlare dell'attore, dell'attore della sua vita. Allora, abbiamo un cane. Questo Kin rappresenta la mia vita. Michele lo scrisse per me, solo per me. Traendo da Dioma, padre, lui ne ha fatto, infatti quello era Kin, genio e sgregolatezza. Michele ne scrisse passione e seduzione, perché questo è. La seduzione che un attore può avere, la seduzione che può trasmettere, le sensazioni che può dare. Io ho tentato di portarlo nel 2016. Lo voglio dire perché io ho una fissa ormai, che sono i giovani, in senso assoluto. La mia compagnia, questa del Kin, è tutta fatta di giovani. E ho fortemente... Tu incluso, tu escluso. No, io escluso, ovviamente. Ah, io speravo incluso. No, io escluso e nel mio sogno, nel mio sogno di questo Kin, ci sono delle persone che fanno parte della mia vita, gli altri giovani, lo dico, sono stati scelti tutti attraverso dei provini. Aspetta, ferma di un attimo. No, no, così io concludo e poi non parlo più. Voglio dire, la mia fissa sono i giovani. I giovani. Il teatro adesso al Biondo sono venuti tantissimi giovani, oggi abbiamo la pomeridiana che è fatta di tutti i giovani, perché il teatro nel 2016 non può essere abbarbicato secondo alcuni canoni, bisogna essere moderni, bisogna guardare oltre. In teatro le parole non sono perle nere, sono parole, ma se ha questa seduzione l'attore, quelle parole le fa diventare delle cose che vanno oltre le parole. Per me questo è il teatro, poi quello che fanno gli altri poco mi importa, ma voglio chiarire che il mio Kin è per la gente e della gente. Allora, fatta questa precisazione dovuta, e poi chiederemo anche perché, vi presento questi due straordinari artisti. Passiamo da questa bellissima signora bionda, che si chiama Lorena Cacciatore. Applauso! Allora, debutto al Teatro Biondo, da Palermitana, tripla emozione. La primissima, sono tanti anni che lavoro fuori, è la prima volta che mi capita di lavorare nella mia città. Peraltro tu è un'opera impegnativa. È, anche un ruolo impegnativo, perché io rappresento in Kin la purezza, l'essenza del teatro. La tua maglia bianca oggi ce lo racconta, la tua purezza, il giglio maestro. Ma c'è il costume tutto bianco, è l'unico. Io ormai sono un giglio. Un giglio. Suor Lorena Cacciatore. Buongiorno anche a Nicola, Nicola Franco, figlio d'arte, insomma, ecco, anche lui parte del cast di questo. No, lui è la parte del potere. Lui è il potere, lei la purezza. Io sono la purezza e lui è il potere. Tu chi sei, Nicola? Il principe di Galles rappresenta il potere assoluto di questo mondo, di questo sogno dell'attore Kin. Ed è un personaggio, secondo me, estremamente articolato, particolare e molto complesso, perché è sempre un po' al limite. C'è questa mania morbosa anche nei confronti di Kin, che si evince durante lo spettacolo. C'è questo rapporto veramente molto particolare. è il suo antagonista, è il suo, tra virgolette, anche un po' amante. Ci sono queste frazioni in cui si evince questo aspetto anche del personaggio. ed è, secondo me, particolarmente complicato renderlo possibile, ma a quanto pare, insomma, è stato uno degli aspetti, dei personaggi che è venuto particolarmente fuori. Non lo dico per me, non mi parlo sopra, ma, insomma, è venuto fuori. E devo dire che per me è stato, ed è, io sono molto contento di far parte di questo spettacolo, di far parte di, appunto, questo spettacolo diretto da mio padre e di Michele Perriere. Sono veramente onorato di farne parte con questo, questo ruolo è veramente emozionante. La cosa importante che ho sentito adesso, che, insomma, mi fa pensare e ben sperare, il fatto che questo spettacolo sia piaciuto e piaccia tantissimo ai giovani, quelli della mia generazione. Ho parlato con diverse persone, insomma, mi hanno fatto capire quanto a loro fosse piaciuto, quanta curiosità abbia scaturito poi questo testo e questa voglia di farsi trasportare. Allora, in scena al Teatro Biondo di Palermo, al Teatro Stabile della nostra città, insomma, in bocca al lupo a Roberto Alaimo, a Gionella Brancato, insomma, tutti quanti. Buon lavoro davvero di cuore, il nostro teatro merita tutto il rispetto possibile. A Tranchina, a Tranchina. Sentiamo anche la signora Santina. Allora, Lorena. A Tranchina, no? Ah, Sandro, Sandro, anche lei però. Anche lei però, va bene. Lorena, la purezza. La purezza. Principe di Gal, tu chi sei? Io sono Anna Denby, che in Kin rappresenta, per l'appunto, il sogno del teatro, il sogno quello bianco, quello vero, quello autentico. Cioè, tutta la parte bella, ancora il sogno, l'ideale massimo del teatro che attraverso l'artista prende vita ed è tutto bello, è tutto assolutamente fatto di luce. Ma cosa sogna il teatro, Lorena? Cosa sogna il teatro? Il teatro sogna di parlare alla gente, come dice Lollo, in maniera chiara, in maniera pulita, in maniera immediata. Si parla tanto di modernità, secondo me è un concetto un po', come dire, sentito, trito e ritrito, perché ormai in tanti fanno cose moderne, pensando che fossero moderne, ma le cose d'avanguardia, insomma, erano negli anni 70, adesso non sono più moderne. La modernità in teatro significa, e la purezza del teatro è parlare chiaro, parlare in maniera comprensibile, in maniera, senza tanti sotterfuggi. Non c'è bisogno di passare un messaggio, il messaggio artistico è semplice, immediato. Diceva Guglielmo da Ocam, a parità di fattori, la semplicità è quella da preferire, perché è quella che arriva. Il nostro spettacolo è una macchina di un sogno apparentemente elaborata, perché c'è questa scenografia, insomma, io invito in tanti a venirlo a vedere, perché è un colpo d'occhio importante. C'è questa scenografia mastodontica, queste scalinate di legno, questa zattera, però sostanzialmente all'interno di questa struttura apparentemente complessa si muovono dei personaggi che parlano e si muovono in maniera semplice comunicando delle cose reali, autentiche. Anna, in questo contesto, passa l'idea di quel teatro che non è fatto di viltà, che non è fatto di sotterfuggi, che non è fatto di compromessi, ma è fatto di passione, è fatto di sogni reali, autentici, che hanno a che fare poi con il mondo dell'artista. Sappiamo che questo è un ambiente talmente tanto complesso che, insomma, difficilmente uno sceglie di fare l'artista, difficilmente uno sceglie di fare teatro così, perché sono tanti... È una strada continuamente insalita, però è la passione che muove e Anna, in Kin, parla di questo, sostanzialmente. Allora, www.teatrobiondo.it, trovate praticamente tutto il calendario dettagliato in scena fino alla prossima settimana, se la mamma non in India. No, fino a domenica. No, fino a domenica, infatti vi dovete sbrigare. Quindi sferugliatevi, poi si dice nell'alto... Anche perché, devo dire, onestamente, il teatro è abbastanza pieno, per cui però ci sono dei posti, delle cose, ci sono i palchi, insomma, c'è ancora la possibilità. Come si diceva al circo, a correte numerosi. A correte numerosi, sì, perché è un'occasione per vedere... Perché poi tu dovresti aggiungerli un po' come fa quando passa quel tipo del salto, perché quando mi cercate... Non mi trovate, perché non solo approfittatene adesso, ma c'è un particolare, che è un allestimento che ha fatto il teatro biondo, così costoso e così ampio, credo che difficilmente si possa vedere. Oggi, purtroppo, il teatro si fa con cinque persone, quando sono sei dice, ah, siete in sei. Noi siamo 24, venti... 24 più IVA o IVA in cui? No, no, proprio 24... Senti, 24 persone! Fanno parte anche i ragazzi, i giovani, i ragazzi della potia d'arte Malvina Franco, che sono veramente parte integrante dello spettacolo. Non sono le comparsine che stanno lì, sono per me e nella mia regia, sono degli attori non parlanti, cioè nel senso che loro interpretano di volta in volta la taverna, di volta in volta i camerini, la corte, le cose, insomma, sono veramente... vanno a chiudere questo sogno, che è un po' come la confusione dei sogni, no? Sì, però facciamo una cosa, scusami se ti interrompo, mi lascio sempre parlare tanto, magari a chi ci segue da casa, a volte magari anche io che sono qui che conduco, do per scontato che chi ci segue da casa sa di che stiamo parlando. Allora, in scena fino a domenica prossima, Keen, la regia di Lollo Franco, e Jean-Laura Sasportes, quello che ha detto lui, Amplanar, e... Non Sasportes è lo storico della compagnia... Sto giocando! Lo so, ma io lo dico perché è lo storico della compagnia... Di Pina Bausch. ...della compagnia Pina Bausch, ed è uno, qualcuno, se è coreografo, lui non è solo coreografo, è anche regista, ha visto che fa delle regie al Berlino, all'opera di Berlino in Germania, insomma. Detto questo, Kinn, tu sei Kinn. Kinn. Kinn, scritto K, Empoli, Ancona, Napoli. Kinn, chi è Kinn? E allora, Principe di Gallo, la purezza, Annadevi, e Kinn. Che Kinn, sai cosa mi ricorda, scritto così, il nome di un cartone animato giapponese? Eh, che... no, no, ecco. Tipo, sai, Kinn, so, di William Benji, Kinn, no, Kinn. Come si chiama? Kinn, il guerriero. Kinn, il guerriero, come, e così... E invece non è niente di tutto questo. Kinn, che cos'è, chi è? Kinn, per me... Acquapaitiere, come direbbe Lollo Franco. Kinn è un attore. Un attore. Io quando dico attore, dico attore. Una volta al carcere mi dissero, io disse, lei che mestiere fa? E me dice, faccio il ladro. Il ladro? Di mestiere? Vero così ti ha risposto? Faccio il ladro, ma come lei fa l'attore. Beh, allora... Ah, fantastico. E allora ho capito che era un ladro vero, infatti è nella categoria dei 500 mila euro in su. A chiarare. Dove, quindi... Insomma... Allora, Kinn è un attore. Che non è quello che guadagna Lollo Franco in questa produzione, chiariamolo subito. Assolutamente no. Kinn è un attore. E io ho voluto prendere a prestito questo testo di Michele Perriera, perché dentro questo testo c'è la vita, il mondo del teatro e dell'attore. Io sono fissato con l'attore. L'attore è un mestiere che è estremamente delicato, violento, difficile, amabile e straordinario. Kinn parla dell'attore, della vita. E lo faccio attraversando il mio sogno, il sogno della mia vita teatrale. Ma non è solo della vita teatrale, è della vita in genere. Infatti io amo incontrare le persone in teatro, sulla strada del teatro e sulla strada della vita. Perché le due cose sono connesse, non sono distattate. Però aspetta, perché mi sto confondendo un po'. Quando tu dici la mia vita, in questo momento chi parla? Lollo Franco o Kinn? Sono tutte e due la stessa cosa? E sono tutte e due la stessa cosa. Ah, ecco, quindi il metodo Stanislavski. Beh, io sono più becchettiano. Becchettiano! Ma il mio Kinn è parlare dell'attore, delle angosce dell'attore. Qual è un'angoscia dell'attore, Nicola? Tu che sei giovane, insomma, poi lo chiedo anche a Lorena. La prima angoscia che ti passa per la testa dell'attore? La precarietà, la percezione? L'angoscia dell'attore, ed è quello che poi viene detto in Kinn, è essere dimenticato. Questa è l'angoscia? Assolutamente sì. Beh sì, questa è una delle cose, anche piccioli, insomma. Voglio dire, la precarietà è sempre quella. Però sì, forse è anche l'essere dimenticato. C'è una frase bellissima che dice... Infatti stavo pensando proprio a quello. Dice, sapete che cos'è un attore? È uno speciale... È un uomo ossessionato dalla memoria. Non vuole dimenticare e teme perennemente di essere dimenticato. Senti, hai avuto paura di essere dimenticato al Teatro Biondo? Perché torni al Biondo dopo praticamente una vita. No, quella è solo una questione politica. È una questione perché io non mi faccio comprare da nessuno. Quanti anni sono passati? Io non lecco a nessuno. Ho sempre fatto il mio lavoro con grande dignità. Allora facevo Monte Pellegrino Festival, poi ho fatto Parco Villa Pantelleria. Ho fatto le mie produzioni. Ho espresso il mio teatro, pensa, attraverso il Teatro Massimo, che nessuno sa. Forse per questo sono rimasto, forse a Palermo. Perché io per dieci anni ho fatto il decentramento e ho fatto le produzioni, per esempio, da Autisto Pos, che è il luogo di nessuno, a L'Istitua d'un soldà, a Beatrice Cenci, a Il folla e la morte di Hofmastal. E questo li facevo, che erano concertati teatrali, e che li facevo per il Teatro Massimo e che prendevo veramente i soldi più di quanti attori nazionali prendevano con un film. Dice, ma è stata una questione. No, è perché ogni artista ha un suo progetto, ha un suo percorso. Io quello con il Teatro Massimo per dieci anni l'ho fatto e avevo l'orgoglio, perché poi in inverno andavo in giro per l'Europa a vedere spettacoli. Perché avevo, ero nella condizione di farlo. Quanto tempo è passato? L'ultima volta sei stato in scena al Biondo, quanti anni fa? Te lo ricordi? Assai perché ho fatto... Ce l'avevo un numero, 20, 15... No, no, te lo spiego, veramente... L'hai sofferta questa cosa? No, mai, perché facevo le mie cose. Quando una volta io disse, posso ritornare al Biondo, lo disse a Carriglio, voglio il nome inditta, la sala grande, è uno spettacolo e debba girare l'Italia. Credo che Carriglio ti abbia... No, no, Carriglio niente, io ho cominciato con Carriglio, ho fatto le acque di Benemino Ioppolo, soltanto che siccome io non volevo fare i mischiare dei politici, io l'ho detto da artista, evidentemente, e siccome sono convinto che questa strada è possibile perché l'avevo fatto, invece evidentemente io ho sbagliato, non ho sbagliato, perché ora sono orgoglioso e fiero di avere fatto così, perché infatti credo che politici odierni si sono accorti, ma in questo cartellone manca la storia, manca quello che... Ai politici o al direttore artistico? No, no, ai politici. Ah, vabbè, allora senti, facciamo una cosa, vado da questi due baldigiovani e faccio allora una domanda un po' complicata, attenzione a come rispondete perché il grande Pino Caruso, io cito sempre alcuni aforismi di Pino, Pino ho scritto un aforismo bellissimo, Pino ho scritto testualmente, che il regista è quello che disturba gli attori durante le prove. Quante volte siete stati disturbati da Lullo Franco mentre stavate provando? Risponde Lorena che ha sorriso. Guarda, la verità, è sempre l'ingerenza del regista, è vero. L'ingerenza del regista, immagino il titolo di un figlio, Lorena Cacciatore, l'ingerenza del regista. Il regista è sempre abbastanza forte e poi è anche, cioè sono due presunzioni che si incontrano perché poi l'attore nel momento in cui prova si libera e crea e attraverso le improvvisazioni che poi arriva a un qualcosa, il regista è un po' più pragmatico per cui ti guida verso quella direzione. In realtà all'inizio disturba parecchio, poi si tratta semplicemente di conoscersi a fondo e arrivare a quella via di mezzo, ci siamo trovati, ci siamo trovati. E invece tu, Nicola? Io non posso non trovarmi. Per me no 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 no. Senti, una domanda curiosa, durante le prove il maestro, papà, Lullo, qual è la dicitura? Non mi chiamo. Non lo chiamo, mi rivolgo a lui. Scusi, scusami, scusami. No no, spesso faccio il problema, dico, allora adesso Kin deve andare, parlo del personaggio, mi riferisco a lui. Ah ok, quindi mai, 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 no, no, no. Però sei stato disturbato dal regista? Mai disturbato, sempre guidato e Lorena chiaramente ha ragione con il, dicendo il fatto che bisogna conoscersi, qua io diciamo che sono in casa e parto avvantaggiato, però c'è un'evoluzione anche lì, si inizia in un modo, non si sa dove si va a finire, ma non direi assolutamente disturbato. Per quanto un regista possa avere un'idea precisa di un personaggio, c'è sempre comunque, cioè, dall'altra versante, c'è una persona che si mette a disposizione, mette a disposizione la propria anima per riempire a tratti anche questo personaggio, per cui, guarda, il compromesso c'è sempre, c'è necessario. Sai, Minutella, te lo dico in maniera molto chiara, io credo, proprio perché credo nell'attore, credo nel teatro, l'attore, a me piacciono gli attori creativi, quello che gli lasci la mano libera e loro inventano, poi il compito del regista è sapere imbastire tutto questo talento e metterlo al posto giusto e con la tonalità giusta rispetto a quello, perché sai, il compito del regista, lui il quadro l'ha già fatto, i colori, lui li ha già messi, lui ha fatto i suoi pupini, sa, però poi quei pupini prendono corpo e anima. E allora, se uno è intelligente, lo dico perché questa è la modernità adesso della recitazione, io non devo arrivare a darti tutti i toni, perché questo è un errore, è una presunzione da parte di chi fa il regista in questo modo. Io ti dico com'è il personaggio, ti lascio la libertà assoluta, alla stretta, alla resa dei conti, e poi ti dico, guarda che sei fuori, così diventi piccola piccola. Ma questo può succedere anche due giorni prima di andare in scelta. Anche nella prova generale, insomma, prima della riscenda. Cioè il concetto è la libertà assoluta dell'attore, della sua creatività, perché per me l'attore non è un esecutore, è un creativo. Allora, prima di andare in pausa pubblicitaria, vieni Rino, ricordiamo un paio di cose a chi ci sta seguendo da casa. Voi lo sapete, in questi anni di Casa Minutella non vi abbiamo mai dato una buca, nel senso che non vi abbiamo mai mandato a teatro. E devo dire, in questi anni di onorata carriera da conduttore di Casa Minutella, non abbiamo mai ricevuto una mail di chi ci ha scritto, mi avete dato un pacco. È un'opportunità per la nostra città, ci sono tre opportunità, secondo me, importanti. Intanto, come dice il titolo della nostra trasmissione di oggi, Lollo Franco torna al Teatro Biondo con uno spettacolo importante che racconta l'attore, le sensazioni dell'attore, e tutto il resto, e noi te lo auguriamo con tutto il cuore. Altra opportunità importante, vedere tanti giovani alla corte di Lollo, tra questi la nostra Lorena, che tra un po' ci racconterà, perché anche lei è un'altra di quelle della serie con Esce Arrinesce, io spero tanto che invece che a Curresta Arrinesce stesso. E lo stesso vale per Nicola e gli altri 20 e passa ragazzi che stanno mettendo... Ah, ci sono pure dei professionisti affermati, eh? Sì, ci sono dei professionisti e tra un po' citiamo. Allora, ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa pubblicitaria brevissima, torniamo ancora in studio e poi vi faccio vedere una clip di qualche anno fa che mi vede protagonista con Lollo Franco. Ci vediamo tra un attimo, dopo la pubblicità, perdono. Vero, fermi. Vero. Vero, fermi. Siamo tornati dopo questa brevissima pausa pubblicitaria. Allora, oggi parliamo di questo ritorno al Teatro Biondo, speriamo resti quanto più tempo possibile, di Lollo Franco. Fino a domenica prossima, Kin, insieme a Lollo Franco, Lorena Cacciatore, qui conosce anche Nicola Franco e poi tantissimi altri ragazzi, anche attori professionisti. Allora, andiamo indietro nel tempo. Chi segue Casa Minutella sa che esattamente quattro anni fa andammo al Teatro Nuovo Montevergini. Ci auguriamo che questo teatro torni presto a fare attività teatrale, che non diventi uno sgabuzzino chissà che cosa. Il Montevergini ci piace ricordarlo come lo vedrete tra un po'. E io mi sono inventato niente di nuovo, abbiamo fatto una parodia al Festival di Sanremo e quell'anno in gara, tra i tanti artisti, c'era Lollo Franco che ha deciso di mettersi in gioco. Attenzione che quest'anno mi sa che ti tocca di nuovo tornare in gara. E allora con Lollo abbiamo dibattuto abbondantemente. Ho detto, guarda Lollo, si fa come dico io, il direttore artistico di questo festival sono io, tu devi cantare Signor Tenente di Giorgio Faletti con una interpretazione magistrale, devo dire, perché contro ogni pronostico Lollo finì in finale. Si classificò tra i primi tre su otto artisti in gara. Quell'anno in gara c'erano le pari dei Benassai, Sergio Vespertino, Gino Carista e Caterina Selenzo. Un cast vinse con l'edizione Ernesto Maria Ponte con Sarà per te di Francesco Nuti ma fece la sua bella figura Lollo Franco con questa clip che ci vediamo. Per andare indietro nel tempo e raccontarvi anche un po' le doti canterine del maestro Franco. Prego, vediamocelo. Forse possiamo cambiarla Ma è l'unica che c'è Questa vita di stracci e sorrisi E di mezze paro Fosse cent'anni o duecento E un attimo che fa Fosse di un attimo appena Sarebbe come Tutti vestiti di vento A inseguirci nel sole Tutti aggrappati ad un filo E non sappiamo Dove Minchia, signor tenente Che siamo uscite dalla cenziale E in costante contatto radio Abbiamo preso la provincia E dal chilomaggio a 41 Presso la casa cantoniera Nascosta bene la nostra auto Che se vedesse che non c'era E abbiamo montato l'autovelo E mi ha fatto molte senza pietà A chi passava sopra i 50 Fossero pure i 50 di età E preso uno senza patente Minchia, signor tenente Faceva un caldo che si bruciava La provinciale sembrava un forno C'era l'asfalto che tremolava E che sbiadeva tutto lo sfondo Ed è così Che tutti sudati Abbiamo saputo di quel fattaccio Di quei ragazzi morti a madre Ammazzati Gettati in aria come uno straccio E caduti a terra come persone Che hanno fatto a pezzi con l'esposivo Che se non serve per cose buone Può diventare così cattivo Che dopo, quasi Non resta niente Minchia, signor tenente E siamo qui con queste divise Che tante volte ci vanno strette Specie da quando sono derise Da un umorismo di barzellette E siamo stanchi A passare che a stare sedute su una volante La voce in radio ci fa tremare E di coraggio ne abbiamo tante Ma qui diventa sempre più dura Quando ci tocca fare i conti Con il coraggio della paura E questo è quello che succede adesso Che poi Se c'è una chiamata urgente Si prende su E ci si va lo stesso E scusi tanto Se non è niente Minchia, signor tenente Per cui se pensa che c'ho vent'anni Credo che proprio non mi darà torto Se riesce a mettersi nei miei panni Forse non mi farà nemmeno un rapporto E io lo dico sinceramente Minchia, signor tenente Con il codice 02 Lollo Franco Allora Lollo Franco Edizione, prima edizione del festival Nicola tu non l'avevi mai visto? Mai visto Quella sera si emozionava I lucciconi Era entrato proprio nel personaggio Del signor tenente E' una cosa seria questo testo E' attualissimo Capito E' bello, è vero E' autentico Se vai in giro e vedi questi ragazzi Che vanno quando li chiamano Ma voi provate a pensare la notte Che cos'è? Questi delle volanti E' assolutamente Veramente Già noi quando usciamo in macchina di sera Passata la mezzanotte E vedi certe facce in giro Toscante Mi chiede Capito Rimani, rimani Allora Andiamo da Lorena Lorena insomma Debutta al Biondo Ha fatto anche teatro Però ha fatto anche tanto cinema E anche le fiction adesso Sul Raiuno In prima serata Con grandi ascolti E' viva E' viva E' viva E' viva E' l'orena però è una delle tante Che come no? Cun esce e rinesce Ne parlavamo prima Ma è proprio così no Lorena? E' proprio così Io ho studiato fuori Sono stata per tanti anni No per tanti anni Per tre anni Alla Silvio D'Amico A Roma E poi da lì Insomma è partita Un po' La mia carriera Teatrale Soprattutto perché l'accademia Ti forma Da un punto di vista teatrale Insomma ti dà una bella Uno zoccolo duro Su cui poi ovviamente Devi lavorare Perché non si finisce mai Di imparare e studiare Soprattutto per chi fa questo mestiere E chi vuole fare questo mestiere E poi da lì infatti Le fiction su Raiuno Questa qua che sta andando in onda Per ora E ci sta dando tante Tante soddisfazioni Il Paradiso delle Signore Lunedì e martedì Sono le ultime due puntate Quindi magari Chi ci sta ascoltando Su Raiuno Se le guardasse Recuperatele su Raiion Demand Senti ma Possiamo avere accesso In questo paradiso Io, Lollo e Nicola A questo Paradiso delle Signore Non ci dispiacerebbe Con dei boccoli Ah ecco Ah ecco Tu hai capito Ci organizziamo Nicola è sulla buona strada Però insomma Voi vi dovete organizzare Io mi dovrei mettere una barrucca E senti Parlavamo no Lorena Anche Nicola Del fatto che papà Prima no Lo citava Giustamente Questa produzione faraonica Importante In questo scenico Importantissimo Però Io mi auguro A tal proposito Devo dire Veramente Le maestranze del Bion Sì Tutte Nessuno escluso Stanno convergendo Su questo spettacolo Che A me la cosa riempie di gioia È come se appartenesse Veramente Anche a loro E che loro Ti fassero Perché questo spettacolo Possa essere visto Anche in Italia Cioè nel senso Che è una bella produzione La gente Domenica Si è alzata in piedi Noi eravamo Già tutti quasi In camerino E fortemente Ci ha richiamati E sapete Questa è una forte emozione Per un teatro Per la gente Ma per il teatro stesso Per tutti quelli Che mi hanno partecipato Perché questi attori Che sono stati scelti Veramente Allora Questa produzione Ha un pregio Che non ha raccomandati Cioè Mio figlio Si trova là Perché è il mio alter ego È il mio antagonista Ma per talento suo Non perché sia mio figlio E io invito tutti A venire a vedere E poi alla fine Mi dite Eh In effetti sì Vabbè Lorena Lorena Cacciatore C'è Perché ha talento Perché io l'ho incontrata Io gli disse Guarda Che per me Tu sei in grado Di fare Anna Demby Che è uno fra i ruoli Più incisivi Del Kine La stessa Elena È stata provinata Mi ha emozionata La stessa Emi Lo stesso Contestabile Lo stesso Pistola La stessa Arielle Perché in questo Kine C'è pure la tempesta E fa una Chetti Eccezionale Sono tutti attori Che hanno fatto La Silvio D'Amico Qua di questi Non c'è nessuno Inventato E allora Se Palermo Può esportare Una cosa Che nasce In una produzione Palermitana Infatti la domanda Era proprio questa Avete un'idea Vi porteranno in giro Avrete modo di E io farò di tutto Perché questo avvenga Ovviamente Modificando anche L'assetto scenico Cioè O se no Dobbiamo avere I teatri Quelli veri Come lo Elvion Allora È venuto a trovarci Giancarlo Che è un ascoltatore Oltre che un ascoltatore È uno spettatore Intanto Buongiorno Giancarlo Benvenuto in casa Minutella E allora Giancarlo è qui Perché ti do il microfono Lui praticamente Diciamolo che L'ho portato io Scusa Posso Fammi fare il conduttore Allora Giancarlo è qui Per un motivo Perché Oltre a venire Insomma Che è un amico In maggiori di lol Un fan Uno che lo segue Da tanti anni E uno che ha visto La prima edizione Del kin Quanti anni fa 27 anni fa 28 A sciacca All'aterio Allora Che non lo so Facciamo Scusate Scusate Non è un concorso a premi Gira la ruota Che hai detto Dei suggerire Lui la sa Fagli dire a lui Sono preparato Sono venuto a preparare È preparato Il concorrente Si prepara per la categoria Kin Lollo Franco Lascia ora doppia lei 27 anni fa A sciacca Ed è stata una cosa memorabile Si L'attore è sicuramente Maturato maggiormente Stiamo parlando di lol Si ma lui incarna Kin Lui è Kin Io credo che Perriera Abbia scrivito Kin Per lui Pensando Perché nessuno Meglio di lui Lui incarna il personaggio In tutto e per tutto Senti tu Appunto Io fra l'altro Kin lo conosco Perché l'ho studiato In letteratura francese Dumas Sartre Ho visto Diversi Kin Anche il film Di Gasman Però sono sempre più convinto Che lui è Kin Infatti mi stupisce Vorrei Spazzare il campo Dalle critiche Ingenerose Che ci sono state Dopo la prima Perché Il lavoro Di Lollo E di tutti quanti È veramente meritorio Prima di tutto La regia I piani inclinati Le botole I costumi Che sono bellissimi Qualcuno ha detto Che sono costumi a farsa Ma io Veramente Questo mi sembra Veramente ingeneroso Le luci E quindi Devo dire che È uno spettacolo Di ampio respiro È molto bello E consiglio a tutti Di andarlo a vedere Come dicevi tu Pocanzi A corrette numerosi Come il circo Perché È una cosa Estremamente educativa Anche perché Il tratto psicologico Di Kin È l'attore All'apice Del suo successo Che si contrappone Al potere Il potere civile Rappresentato Dal principe di Galles Quest'attore Che Ovviamente Dumas Lo Colla Alla fine Il settecento L'attore In quel periodo Sebbene Avesse molto successo Se fosse Un principe E la scena Veniva sempre Considerato Un guitto Non mai Il mattatore Che noi oggi Consideriamo Quindi c'è anche Questo tratto Psicologico Interessantissimo E questa gelosia E poi volevo Attirare anche L'attenzione Sul fatto Che è estremamente Emozionante Per chi non lo sapeva Che Lollo E Nicola Sono padre e figlio Vederli In scena In questi due ruoli Primeggianti È Una cosa Estremamente Commovente E emozionante Grazie Vorrei Fare i complimenti A Lorena Che nel suo ruolo È perfetta Rispetto agli altri Kind Che ho visto E anche complimenti Perché io non sapevo Che tu recitassi Nel Paradiso E il Signore Ne avevo sentito parlare Comunque complimenti Adesso Mi Sei il personaggio Che viene insidiato Da Cazzaniglia Ecco Adesso Adesso Ti ricordo Grazie a te Per questa testimonianza Grazie a loro Di fare Questo teatro Che è il vero teatro Speriamo Speriamo Che non Resti Stabile Al teatro Stabile Grazie 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 per questa testimonianza Allora Amici di Casa Minutella Una cosa Ve la devo dire E voi sapete Che io Nel bene o nel male Dico sempre tutto Quello che penso Quando andate a teatro Intanto sapete Che tanti anni fa Abbiamo istituito Una campagna Di sensibilizzazione Ai confronti Dei palermitani Anche se Adesso in diretta Ci vede tutta la Sicilia Non un biglietto Ma un segno di rispetto Il palermitano In generale Ama andare a teatro Facendo vedere Che c'è il biglietto maggio Per fare sabere che no Cioè Andate a teatro Perché Come diceva prima Lollo Franco E anche i nostri Lorena e Nicola Andare a teatro Intanto come dice Anche Pino Caruso Apre la testa Crea anticorpi Ma soprattutto poi Pagando il biglietto Sostenete Attrezzisti I macchinisti La persona addetta al sipario I costumisti I truccatori Gli scenografi Le maschere del teatro C'è di parasi C'è di pagare l'empazzo C'è di pagare i vigili del fuoco Sono infinità di tasse Che voi non avete la più pallida idea Di cosa significhi Mettere in scena Uno spettacolo Quindi già solo per questo E poi Quando uno spettacolo finisce E vi rimane il dubbio Di qualcosa Perché magari il regista Lascia un finale aperto Aspettate gli attori Incontrateli Parlateci Aspettate l'Ollofranco Al termine dello spettacolo Aspettate l'Orena Aspettate Nicola E tutti gli altri ragazzi Per dire Ma cosa mi volevate dire In questo momento Così non uscite dal teatro Col dubbio Di una cosa E poi magari Ne potreste anche parlare male Confrontatevi col regista Confrontatevi con gli attori Anche perché sono in carne ed ossa Non è al cinema Una volta uscito dal teatro Potete incontrarlo No sto sbagliando Picciò Ditemi voi se Al di là dell'attore famosa A cui uno chiede la foto E questo è quello Parlate con gli artisti Incontrateli Chiedete loro Documentazioni sullo spettacolo E tutto A me tante volte è capito Ad andare al teatro Non l'ho capito Una cosa mi sono fermato Senti Ma spieghi sta cosa O no Sì 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 Una volta mi ha detto Un signore È venuto a vedere Al teatro Santa Cecilia Che io facevo Un gigante alla montagna Con i detenuti Sì Che era presente anche Caselli Allora E il sindaco Giancarlo Caselli Sì E uno mi disse Guarda Non ho capito niente Ma lo spettacolo è bellissimo Mi ha impressionato questa cosa Sì Capito Mi ha impressionato Perché è una cosa Capito Se tu dai emozione Al di là della parola Sì È vero Il teatro deve dare questo Se non do questo Ma io ti spedisco a casa il testo Tu tu leggi E non siamo niente È vero È vero Ma se vieni in teatro Ti lavi Fai la doccia Prendi la macchina Paghi il biglietto Entri in teatro Vai al guardarobba Poi finalmente ti siedi Ma se non porti a casa Una crescita interiore Una crescita interiore Un pathos Che guardi le luci I costumi La scena Gli attori Tutto quanto È una festa Io il teatro È un viaggio Io il teatro Lo faccio come festa E a me La festa Non la rovina nessuno Allora Questa era un po' una minazza L'ha detta un po' con un'aria Ci voleva il Ta 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 No perché Qualcuno pensa No c'è Trova una mafia Non la rovinava Non siete in grado Di rovinarla Ma questa è possibile Questa è stata rovinata Parlo con voi due Che siete un po' più giovani Lui è un po' cupo Per queste cose E cioè Cos'è Una critica Che secondo voi Era ingiusta Ma guarda no Nella maniera Non ne voglio parlare Non ne voglio parlare Ma no Se lanci la pietra Ti ammuccia male No no Io non dico Allora Per me Il mio ritorno È con Chin È una festa Già a cominciare Dalle prove Già quando è venuta Una settimana prima Un mese fa Sa Sportes Già per me Diventò Una festa Mettere il cena Chin E farlo ogni sera E la mia festa Ha avuto Il suo Culmine Con il pubblico Allora Fermi un attimo Lo vedete In sua impressione Il logo di Facebook Di Casa Minutella Ufficio La venite Cliccate mi piace E soprattutto Sarete documentati Su quelli che sono I prossimi appuntamenti Di Casa Minutella Domani In diretta Con noi Salvo imprevisti Verranno a trovarci Paolo Conticini E Serena Autieri Che sono poi Il giorno dopo Debuttano venerdì Al Teatro Al Massimo Di Palermo Con Vacanze Romane Un classico Targato Garinei Con le musiche di Trovaioli Una produzione del Teatro Sistina Dal 22 in poi Poi ci verranno a trovare La prossima settimana Una trangamina foto Toto Buffaro Che ci presenta Il suo ultimo libro E così via Torniamo alla puntata Di oggi Perché lo dico Veramente con il cuore Al di là dell'affetto Che mi lega Nei confronti Del maestro Lollo Franco E anche di Lorena Che ci siamo conosciuti Che eravamo ragazzini Eravamo veramente ragazzini Anche Nicola Adesso impareremo A conoscerlo È un'opportunità Quella che abbiamo Di confrontarci Con i ragazzi Della nostra città Facciamolo Proviamo per quanto possibile A essere anche Un po' meno esterofili Da qui a domenica Al Teatro Biondo C'è questa ghiotta Opportunità Diamo una mano anche Lo dicevo prima Al nostro direttore artistico A Roberto Alaimo Le scelte di un direttore artistico Possono essere azzeccate A volte anche sbagliate Ma è sempre lì pronto Doverosamente A dover rispondere Alla città Anche delle scelte fatte Perché no Quindi vedremo questo kin E poi Le dibatteremo Ne parleremo E così via Ma ben venga Ma ben venga Ma il teatro Deve dare anche questo No Lorena È la possibilità Di un confronto aperto Per cui Io accetto sempre Le critiche Quando queste Sono costruttive Perché Accrescono E arricchiscono Il nostro lavoro Sempre e comunque Quindi non Non mi Cioè Nel qual caso Ci fossero state Non ci sono state Sono state Due, tre Su dieci persone Che apprezzano Lo spettacolo Quelle due Che non lo apprezzano Magari può capitare Di incontrarle E ben vengano Perché significa Che comunque Ognuno ha un'idea Propra E la sviluppa Seconda Chiaramente Delle emozioni E delle sensazioni Che passano Io ci tenevo Massimo A nominare I nostri colleghi Perché insieme a Lollo Insieme a Nicola Ci sono Luigi Tabita Sara Biacchi Aiutatemi Caterina Silva Luciano Falletta Loris De Luna Roberta Azzarone Molti di loro Sono anche I miei compagni D'accademia Peraltro Insieme a tutti I ragazzi Della Festa Vi facciamo La festa Volevo ringraziare Sai Massimo Perché in genere Allora i costumi Sono di Dora Argento Che per me Sono bellissimi Tutte queste persone Che io ho scelto E perché ci ho creduto Sin dall'inizio Poi hanno dato Il risultato Che io volevo E che il pubblico Prende Le luci Di Giuseppe Calabro Che ritorna A Palermo Dopo tantissimi anni Perché lui Lavora alla Fenice Di Fa l'opera Ma lui Ama La prosa Volevo ringraziare Jean-Laura Sassportes Che è venuto A dividere Con me La regia Volevo ringraziare Santina Franco Pellitteri Perché Ha fatto L'aiuto E l'ha fatto Preziosissimo In maniera Eccellente Volevo ringraziare Le luci L'ho dette La scena L'ho detta La scena L'ho fatta io Quindi non ringrazio Me stessa Perché È la realizzazione Del mio sogno Questa scalinata Che dal basso Arriva fino al potere E che dall'alto Scende fino in sala A parlare con la gente E per la gente Volevo ringraziare Il teatro Biondo Per la grande Opportunità Che ha dato A tutti noi E avere la possibilità Che questo spettacolo È una richiesta Cioè che faccio Un desiderio Possa essere Nelle condizioni Di circuitare In Italia Con questa compagnia Bene Allora Inquadratura Per il nostro Nicola Nicola Guardarino Non è un grande Scusate che abbiamo Dimenticato Nello spettacolo C'è pure Giuditta Perriera Giuditta che salutiamo Salvo Tessitore Salvo Tessitore È Salvo Tessitore Stavamo facendo La scuffiata finale Amascoliata Questo è il recente Di successo del festino Nicola Guardarino Invita la gente A venire al teatro Prego Venite a vedere Chin Passione e seduzione Al teatro Biondo Per scoprire Tutte le Anzi Gran parte Delle Verità Della vita E del teatro Ma non ti assomiglia Per niente Non è vero C'è proprio Capito C'è manco pare figlio tuo Niente Lo so Il più bello di te intanto Intanto quello è sicuro Però la voce La voce E' uguale La voce è bella Eh sì Vabbè Andiamo Andiamo da Lorena Che vi dà invece Un buon motivo Per venire al teatro Dai Si mette nuda No È nuda È nuda Fittamolo Alla fine Dai Hai fatto No no Io già sarei seduto là Abbiamo Però vedi come Succita subito Vì che è immediatamente No Io già sarei seduto là Dalla prima Non sarebbe una novità Voglio dire Vedere una donna nuda E che donna Che donna Però comunque No Venite a teatro Semplicemente Perché al di là Del fatto che Scoprirete Un testo nuovo Ed è sempre bello Scoprire cose nuove Al di là Delle verità Più o meno Reali Che potete Cogliere Venite a A sostenere Un progetto Artistico Venite a A sostenere La possibilità Di farvi catturare Da delle suggestioni Quindi Semplicemente Io vi invito Perché Perché è una cosa bella Perché merita sempre La possibilità Di andare a teatro È sempre una grande ricchezza E in questo caso È una cosa forte Perché per la prima volta Qui a Palermo Si ritorna Con uno spettacolo gigantesco Quindi questa è una cosa Incredibile Grazie Lorena Allora Inquadriamo Lollo Franco Faccio una sorta di Prefazione alla Alla pif Lo vedete Quest'uomo inquadrato Si chiama Lollo Franco In realtà è lui Che si mette nudo In realtà è lui Che si mette nudo E quindi Per questo motivo Lo spettacolo È vietato ai minori Di quanti Vabbè Scherzi a parte Allora Bocca al lupo Grazie per essere stato qui Per avermi Permesso di poter Condividere questa gioia In mezzo del tuo ritorno Al Teatro Biondo Con Lorena Con Nicola E con tutti i ragazzi Che avete citato Ci vediamo in questi giorni Fino a domenica Al Teatro Biondo Al Teatro Biondo Hai l'ultima possibilità Di dire una cosa Tempo scaduto Non sto scherzando Desidero Che veramente I giovani Facciano lo sforzo Di venire a vedere Il teatro Anche perché Il bietto costa poco Per i giovani Insomma Il bietto è Popolare Fra l'altro Abbiamo delle formule Veramente per fare risparmiare I giovani Teatro Biondo Punto IT Trovate tutto Teatro Biondo Punto IT Vi prego Vi prego Ancora una volta Abbiate l'opportunità Di venire In questo Splendido Teatro Che è il Teatro Biondo Che lo dico Con orgoglio Che è il primo Teatro di prosa Della città Evviva Allora Grazie Noi ci vediamo domani Con Serena Autieri Paolo Conticini Insieme a noi Verrà anche Simonetta Trovato Ci vediamo domani Grazie Rino Giussi Grazie Tele One Grazie Che TV Ci vediamo domani Fate i bravi Dio vi benedica Baci Ciao Grazie Lollo Franco Lorena Cacciatore Nicola Franco A domani Ciao Teatro Biondo Fino a domenica prossima Ciao Grazie a tutti Ciao Ciao Ciao